Buongiorno a tutti, torniamo con gli appuntamenti di Incontriamoci al Guado a parlare di arte, lo facciamo parlando di un settore forse il più antico, certamente il più performativo, che è il teatro e lo facciamo con due artisti del teatro molto differenti per esperienza, per età e chi lo sa, forse anche per caratteristiche, questo lo scopriremo. Incontriamoci al Guado, è una serie di incontri che ha il patrocinio della Società Umanitaria di Milano, della Fondazione per Leggere, che raggruppa 60 biblioteche di pubblico servizio sul territorio di questa zona della Lombardia, del Polo Culturale del Castanese e dei comuni di Inveruno, Robecchetto con Induno e Castano Primo. Questo ciclo di incontri è curato da me con Franco Manzoni, critico letterario del Corriere della Sera e si svolge grazie al supporto di Schema, rivista di poesia e di Libreria Bocca dal 1775. Sono molto contento di avere questo primo incontro dedicato al teatro, ce ne sarà un altro più avanti, e sono molto contento di rivedere il caro amico e grande artista Sergio Ciulli, eccolo qua. Buongiorno Sergio. Dolcissima e bravissima Irina Lorandi, eccoci qua tutti e tre. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io prima di parlare di cose che mi racconterete da dentro la vostra esperienza, vorrei conoscerci meglio. Ricordiamo che Sergio è collegato da Firenze o da quella zona? Toscana. dalla Toscana, Irina da Milano, molto più vicino a Guado, ma col cuore siamo vicinissimi e poi magari lo accenneremo anche con Sergio perché abbiamo, io quest'anno lo devo ricordare Dante Alighieri e devo ricordare che Sergio è stato ed è uno dei più rilevanti interpreti delle letture dantesche e io ho avuto il piacere e l'onore di commuovermi grazie a lui in una lettura che fece proprio a Inveruno durante una delle nostre tre mostre dedicate a Dante Alighieri di quel progetto enorme e bellissimo che forse riusciremo a portare proprio a Firenze quest'anno che è Dante 100%. Se sarà così naturalmente Sergio ti invito già a partecipare ad una lettura, ad un evento collegato a questa mostra che potrebbe svolgersi con l'aiuto dei frati minori conventuali in Piazza Santa Croce, vedremo, staremo a vedere. Bene, c'è un antico proverbio toscano che dice stare con i frati e zappare l'orto, che vuol dire che semplicemente mettiamo insieme le cose diverse e poi vediamo cosa accade. Senti Sergio, benissimo, allora io parlare di te è complicato e lungo perché hai fatto veramente tante cose. Io volevo chiederti semplicemente, anche per una mia curiosità personale, come hai cominciato a entrare nel mondo del teatro? Qual è stata la scintilla? Non è facile dirtelo tutto insieme, perché è lunghina la storia, comunque cercherò di essere brevissimo. Allora, ero ancora presso a poco adolescente, quando per una serie di circostanze avevo una mia lonna, conoscevo un certo Ughino, Ughino, a Firenze i diminutivi sono di casa, Ughino, il quale era capo clac al Teatro Verdi che faceva della rivista, ero nei tempi di Carlo da Porto, ero nei tempi di Walter Chiari. Lui aveva due professioni. Quando non c'era la stagione teatrale forniva strumenti di scasso ai ladri, un po' come Totò nel film famoso. Ed in inverno Ughino invece era capo clac al Teatro Verdi e in altri teatri di Firenze. E quindi bisognava sempre di batti mani, di mani pronte per batti mani. E un bel giorno Ughino mi portò con sé il Teatro Verdi a Firenze dove c'era proprio Walter Chiari, una rivista con Walter Chiari e poi anche con Carlo da Porto. E a un certo punto io mi trovai accanto a una signora profumatissima in loggione la quale mi disse fai come me, quando vedi che batto le mani battino anche tu. E sì sì, mi miri lì e quando provvisamente questa luce della sala sparì, si venne un gran raggio di luce sul palcoscenico, a sé pari ancora chiuso, uscì fuori un signore lontanissimo e la signora mi disse comincia ad applaudire. Cominciamo ad applaudire e da quel giorno io non ho smesso mai. Ho finato applaudire, anche perché amo anche andare a vedere io teatro e quindi ho finato applaudire e nello stesso tempo forse è nata lì il primo input della faccenda. Quindi casualmente, ma chissà chissà, forse dentro c'era qualcosa. Infatti poco dopo, poco dopo io ancora non avevo ancora, sempre adolescente o meno adolescente, mi sono ritrovato a fare l'avanspettacolo. L'avanspettacolo di allora, che era praticamente, si faceva tra una proiezione di un film e l'altro, una piccola compagnia poveramente nobile, dove ancora c'era il cantante che cantava l'opera lirica, c'era la cantante che cantava le canzonette e io imparai a fare di tutto, a presentare, a ballare, a dire qualsiasi sciocchezza, imparando semplicemente dagli altri tutta una serie di cose. Poi un giorno ho finito tutto questo, ho cercato di fare sul serio e sono andato praticamente a una scuola di teatro, con la signora, a quel tempo si diceva, la signora Tatiana Pavolo, anche lì un bel colpo di gomito perché per una serie di circostanze finì per farli praticamente da assistente e d'allievo. E quindi da lì, un certo punto. Ho capito Sergio, cioè in realtà ho capito, non ho capito niente perché mentre voi, mentre tu spiegavi, io sono sparito. Quindi sentirò tutto questo racconto che mi ricordisce molto nella diretta che invece so che Irina ha potuto sentire, me lo puoi confermare Irina. Ho sentito tutto e sono stata molto affascinata da questo racconto. Bene, vuol dire che anche i nostri collegati, che sono parecchi in questo momento, hanno potuto ascoltare. Senti Iri, io ti conosco abbastanza bene, però in realtà anche a te questa domanda non l'ho mai fatta. Quindi mi tocca di capire anche nel tuo caso come hai fatto ad avvicinarti al mondo teatro così complesso, così articolato, così appassionante, ma anche così difficile. Poi ne parleremo anche di questa situazione che stiamo vivendo. Allora, la mia storia è ovviamente molto diversa da quella di Sergio, anche perché ovviamente io mi sono avvicinata al mondo teatrale in un'epoca totalmente diversa rispetto a quello in cui si è avvicinato lui e quindi il mondo teatrale italiano era già molto diverso da quello che magari ha potuto fortunatamente conoscere lui, ma magari anche quello che ho conosciuto io era diverso in un altro modo con altri aspetti positivi, altri aspetti negativi. La cosa che mi piace di come io mi sono avvicinata al teatro è che questo avvicinamento include la scuola e questa cosa mi piace perché è quello che cerco di fare anch'io, che oltre ad essere attrice sono anche insegnante di teatro e lavoro specialmente nelle scuole e in particolare nelle scuole medie che è proprio il luogo in cui io ho conosciuto il teatro per la prima volta perché da piccola mi era capitato di vedere degli spettacoli magari, ma senza avere la coscienza, essendone magari anche affascinata, ma senza avere la coscienza di riconoscere che era una cosa che io volevo fare. Quindi la prima volta che proprio ho conosciuto il teatro è stato in terza media, a scuola. Una professoressa, non della mia classe, molto appassionata di teatro ha avuto la pazza idea, con tutte le classi del corso A, di fare uno spettacolo teatrale. Ma ovviamente uno spettacolo teatrale che era un po' strano, veniva tutto dalla passione di questa professoressa quindi lei aveva deciso di farci mettere in scena via col vento a teatro. E siamo partiti con questa strana avventura di messa in scena e io lì proprio ho scoperto, provando a recitare, una attitudine e una passione che non avrei potuto altrimenti magari scoprire o comunque l'ho scoperta così presto grazie a questa possibilità che mi è stata data a scuola. E anche poi quando sono passata nel corso delle superiori, anche lì ho continuato grazie alla scuola a coltivare la passione per il teatro perché avevo la possibilità di fare il corso di teatro al liceo, non tutti hanno questa fortuna. E poi questa cosa si è evoluta finché poi all'università ho deciso di intraprendere professionalmente la carriera facendo i provini per le accademie e poi entrando alla scuola Paolo Grassi. Quindi il mio percorso di conoscenza del teatro passa attraverso la scuola e di questa cosa sono molto contenta. Abbiamo scoperto una cosa che vi unisce molto perché Sergio Sciulli, oltre a essere un artista di cui poi parleremo attraverso le sue avventure professionali nella televisione, nel cinema, fondamentale il suo lavoro nel cinema e naturalmente nel teatro, è anche una didatta ed è stato direttore dell'Università del Teatro di Firenze se non sbaglio? No, molto più giuro. Nel senso, no, sono da circa 20-25 anni praticamente scoperto che potevo essere anche un buon insegnante. E quindi mi sono dedicato abbastanza a questo attraverso, prima, una serie di cose casuali, quando mi vivevo a Roma, quando mi vivevo a Roma e quindi dal teatro in Trastevere e altre situazioni. E poi dopo, quando... Tu ricordiamo, scusa Sergio, e brevemente mi è venuto in mente, ecco Marelli cosa mi ha detto, Roberto Marelli mi ha detto, a Roma ho conosciuto Sergio Sciulli. Sì, erano i tempi in cui dovevi per forza andare a Roma o a Milano, erano le sue scelte praticamente. Per me era un così più semplice Roma e qui sono finito a Roma. A un certo punto, dopo ho lasciato Roma, quando ho pensato che ne arriva abbastanza, sono tornato praticamente in zona alle radici. E lì ho proseguito con la scuola nazionale, con questo nome ampolloso, scuola nazionale di cinema indipendente, che però semplicemente dietro ha una preparazione molto forte, sia tecnica che artistica, e che è una delle scuole a cui praticamente mi hanno chiesto, casualmente, di un tipo di docenza, che poi è diventata amicizia, che poi è diventata collaborazione per altre cose, e che per vent'anni siamo andati avanti e io ho allenato futuri disoccupati, quasi sempre, alla professione, anche perché i tempi stavano cambiando molto. e tutt'oggi ha però ancora qualcuno in cui, io ho smesso circa un anno fa con il covid praticamente, la situazione della scuola ha dovuto così ritrovare certe cose, e tutt'oggi qualcuno ancora mi telefona, mi chiama, di quelli che si leputano allievi, mentre per me sono semplicemente dei compagni di viaggio, sono stati dei compagni di viaggio, in cui più che insegnare ho raccontato cose che che io ho imparato e che praticamente ho cercato poi di incrementare. E così, questo è. E ma anche alla Paolo Grassi, mi è capitato una volta, ragazza, ti posso chiamare ragazza, ma non in senso di gioventù, in cui la ragazzerina dico sia formata. Io per un certo periodo ho anche rischiato di fare danni lì. Però poi dopo non c'è mai che... però dato in porta la cosa, però io ho apprezzato tantissimo quella scuola e ho scoperto che grossa scuola, che grande scuola che era, e che sia ancora, e che se qualcuno mi chiede praticamente dei miei allievi dove posso provare, e ne dico, metto sicuramente anche la Paolo Grassi da provare, perché è veramente una garanzia di formazione e di esperienza di vita. Sicuramente abbiamo avuto modo da guado, dal raccolto, tu sai Sergio, di in tanti anni di lavoro di verificare quello che stai dicendo, perché poi lavorando anche spesso in quest'ambito geografico, quando lavori con dei professionisti del teatro, molto spesso provengono proprio da quella scuola, che fa parte delle gloriose scuole civiche della città di Milano, che riguardano anche lingue e altri settori, insomma, è un ente formativo. Senti Sergio, volevo segnalare dal punto di vista della formazione, io suggerisco a quelli che ci stanno seguendo di andare a cercare un video di Sergio Ciulli, che dura una decina di minuti, dove lui ha un breve rapporto di insegnamento con dei giovani registi e dove dice una cosa, secondo me, molto interessante, cioè il regista è un ottimo regista quando, scusami se non cito letteralmente Sergio, ma non mi ricordo, non quando dirige, ma quando coinvolge, quando lavora con, quando trae quasi un'ispirazione dalla persona, dall'attore con cui sta lavorando. Io so che tu hai fatto anche l'autore e comunque hai lavorato ad esempio con Federico Fellini, quindi hai un ampio spettro di conoscenze da questo punto di vista. Qual è il significato di questo concetto che dici? Perché un regista dovrebbe lavorare in questo modo? Qual è il vantaggio di lavorare così? Non dovrebbe, diciamo, è sicuramente, più che dovrebbe direi, è sicuramente una delle componenti del lavoro del regista che non va dimenticato. L'attore è uno strumento dotato di una sua autonomia, di una sua intelligenza, ma è uno strumento in toto, nel momento in cui il lavoro è diretto da un regista. È uno strumento con cui si occorre relazionarsi qualcuno di relazionarsi e anche imparare a maneggiarlo. Non tutti gli strumenti sono uguali. Cioè nel senso non tra me e un'altra persona ci sono delle esigenze emotive diverse al momento in cui si fa questa professione, questo mestiere bellissimo, meraviglioso, perché muori e poi dopo ti alzi e prendi le applausi. Ma è una cosa che non accade. Però c'è bisogno fondamentalmente anche di qualcuno che ti dia delle sicurezze, che ti sa adoperare. Ecco, io mi sono trovato spesso per dire, e questo nasce attraverso praticamente un rapporto umano con la persona, un rapporto che non è soltanto quello del chi è di scena o del sé, un rapporto che si sviluppa anche all'interno della cosa. Io ho lavorato con tante persone e sono pochi registi con cui non mi sono trovato bene. Perché io parto sempre da un discorso, anch'io devo capire con chi sto, anch'io devo capire com'è il registro. Questo discorso è reciproco. Molto spesso, ovviamente, quando ti capita di fare una posa, due, tutto questo è difficile di svilupparsi. Ma steticamente, come è capitato anche a me, di avere un mese di lavoro sulle situazioni, o anche dei dormi all'interno del mese, più l'ottunno, allora è facile. Basta rendersi disponibili e abbandonare le proprie paure. C'è paura di scoprirsi molte volte. Invece questo è un mestiere che ti mette al nudo in una maniera terrificante e se non ti vuoi bene ti spari. E devi divertire molto bene anche quello che ti manca. Perché poi te lo costruisci. All'interno devo dire questo. Ok, grazie. Senti Irina, a proposito di questo discorso importantissimo che ci ha fatto Sergio, anche a te è capitato di lavorare sia nel teatro che in televisione, in particolare con Maurizio Crozza all'interno del gruppo di attori che lo affiancavano fino a quando il Covid non ha dato un taglio netto anche a quel lavoro. La gente pensa che in televisione il mondo degli attori sia andato tutto uguale. Vi assicuro che non è così. Anche nella televisione ci sono stati dei grossi problemi. Comunque, al di là di questo, Irina, qual è stato e qual è per noi che siamo ignoranti da questo punto di vista la fondamentale differenza tra la televisione e il teatro da questo punto di vista, cioè dell'autore e attore, dell'autore regista e dell'attore? Quali sono le differenze fondamentali e naturalmente nel rapporto con voi attori? Beh, allora, in realtà nella trasmissione in cui ho lavorato io e con il capo trasmissione con cui ho lavorato io. In realtà io mi sono trovata molto vicina come approccio all'idea al mondo teatrale, anche perché Maurizio Crozza viene da una formazione teatrale molto importante che è lo stabile di Genova, ha iniziato con il teatro e quindi è un attore di teatro, di formazione anche se poi sei dato alla televisione e anche nel modo di dirigere noi attori che lavoravamo e lavoriamo e lavorano, ancora quando c'è la possibilità con lui, era molto teatrale, è molto teatrale nell'approccio. Sicuramente poi ovviamente al di là del discorso del rapporto registico con lui, ovviamente il lavoro televisivo è diverso poi nella resa scenica che tu devi dare recitativamente perché è proprio, è diverso il mezzo a cui tu ti stai rivolgendo. In teatro c'è un lavoro a 180 gradi, anzi 360 gradi nel rivolgersi con l'attenzione e con la direzione della comunicazione verso i tuoi compagni e verso il pubblico, mentre invece quando tu ti trovi a lavorare per una camera, sia al cinema che per la televisione, è più focalizzato il tuo sguardo, la tua comunicazione e deve essere più precisa e anche un pochino più castrata, ma in questa castrazione puoi trovare la tua libertà, insomma, c'è solo da abituarsi. Sì sì. C'è un po' più di sintesi. Dimmi, 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 Franci. Un po' più di sintesi, dicevo, questa castrazione è una sintesi. Diciamo che devi essere molto consapevole del mezzo con cui hai a che fare e delle possibilità che hai nel momento in cui stai facendo un'azione e ovviamente la camera ha delle possibilità di avvicinarsi all'attore che nel teatro non ci sono e nel teatro quindi questa cosa la bisogna ovviarla con la recitazione ed arrivare in un certo modo, mentre invece quando tu hai a che fare sia nella televisione che al cinema con una camera che è molto intima nell'entrare in contatto con te, devi tenere conto di questa cosa e delle possibilità espressive che ti dà anche molto diverse da quando invece tu sei a teatro. Ovviamente è totalmente differente, insomma, però è castrante da un punto di vista, però è anche molto interessante da un altro punto di vista. È come se tu dovessi entrare in un quadro a volte e quel quadro ha solo quelle possibilità. Però all'interno di quelle possibilità sei molto anche libero in un certo senso. Ho capito, interessante. Sergio, che vedo che siete d'accordo su questo. Sì, sono d'accordo e sono d'accordo e sicuramente sono due approcci diversi con la professione. Così come è diverso fare radio, così come è diverso fare qualsiasi altro tipo di comunicazione. Cioè il nostro è un lavoro di comunicazione. Cioè noi siamo praticamente, coloro che hanno la fortuna che qualcuno un tempo, ora è tutto chiuso, pagava per ascoltarli. E avremmo anche pagati per fare questo. È un lavoro, è un mestiere, è giusto che siamo pagati, come è giusto praticamente che vediamo quello che dobbiamo dare, secondo il mezzo che usiamo in quel momento. Dobbiamo sapere fare questo. Dobbiamo sapere fare questo. E ovviamente sì, solo l'esperienza ti porta a capire esattamente come farlo. Oggi sono i tempi dove penso, non vorrei trovarmi ad essere ancora sul campo. Adesso sul campo intendo il palcoscenico, il set, perché non c'è più. Oggi ho accettato anche di parlare di questo tuo invito, per me è greditissimo Francesco. Fondamentalmente perché era una maniera anche per dire ai miei compagni di viaggio di tanto tempo fa o di quelli che ancora non conoscerò mai, ma che fanno lo stesso viaggio, lo stesso cammino, per dire che cerco di essere il più vicino possibile a loro e condividere quello che posso con loro. Non sono molti i mezzi per poterli condividere, ma questo per esempio è uno di questi. E inviterei tutti praticamente a leggere l'articolo di Stefano Massini sulla Repubblica di Ieri, è un articolo in cui Massini si chiedeva e poneva degli interrogativi su perché dobbiamo essere chiusi oggi, praticamente, e fermi dal punto di vista della cultura, potendo rispettare più di altri, praticamente, le locazioni e regole. Questo significa mancanza di cultura e mancanza, praticamente, di possibilità di vita per chi fa questo lavoro, che è un lavoro, che è una professione, che non lo fa soltanto per essere pagato, ma lo fa perché vuole dire qualcosa e vuole apprendere anche altre cose dallo scambio con gli altri. Questo è il momento in cui io, Stamani, sono felicissimo di essere qui con voi perché fondamentalmente è già un bisogno assoluto di poter ancora una volta metterci la faccia sulle cose e dire praticamente agli altri e ci siamo ancora, siamo ancora qui, vogliamo essere ancora qui, vogliamo stare con voi, con gli altri. Noi abbiamo sicuramente, l'unica ragione che io trovo è che il P, lo spettacolo produce, evidentemente non appare abbastanza sufficiente, praticamente, a chi ci sta portando avanti. Ma certo, grazie, grazie davvero di questo appello positivo, di questo significato anche drammatico delle tue parole che non posso fare altro che condividere. Scusa, sono capitato. Temo però che oltre al PIL ci siano anche altre considerazioni, forse ancora più gravi, che sono quelle della scelta di non fare della cultura un mezzo per andare avanti nella nostra società. E questo secondo me non è legato a un problema economico, è legato a un progetto di società più semplice da gestire e questo non me lo leva nessuno dalla testa per il momento. A questo punto io volevo condividere con voi e in particolare con… Un pensiero va in questo senso soprattutto, come diceva Sergio, a Irina e a tutti i giovani artisti del teatro e della musica, aggiungerei, oltre a mettere dentro me stesso e tutti gli artisti visuali, ma soprattutto teatro e musica che in questo momento appunto tra i più giovani sono quelli che sono naturalmente più in difficoltà, sono quelli che hanno anche davanti più tempo per venirne fuori e questo è sempre una cosa molto bella. Però in questo momento davvero il pensiero va a loro perché non lavorare e non lavorare su un mestiere, come diceva Sergio Ciulli, non su una mansione. Gli artisti sono dei professionisti seri, sono persone preparate, preparate a fare quel mestiere e non avere la possibilità di mangiare facendo il proprio mestiere vi assicuro che è piuttosto umiliante. Comunque, torniamo a noi. Dante che paura, una affascinante lettura di Sergio Ciulli. Io, Sergio, mi ricordo quella lettura bellissima che tu riuscisti a fare a Inveruno con il raccolto tanti anni fa e ricordo l'emozione e le lacrime che mi procurò quella lettura perché mi pare fosse dedicata al Conte Ugolino. No, ti prego solo un attimo. Sì, c'era anche il Conte Ugolino. Avevi fatto anche un pezzetto. Allora, avevamo fatto il quinto canto con Paolo e Francesca, se non sbaglio. E poi avevamo fatto anche il Conte Ugolino e, insomma, quest'anno ricorre un importante anniversario di Dante. Come si sta muovendo quel territorio là, che è il suo territorio, intorno a questo grande personaggio? Ci puoi dare qualche anticipazione? Per quanto mi riguarda, io vivo questo territorio, ma sicuramente non lo vivo con tutte le informazioni quotidiane che ovviamente chi sta sul pezzo come Rina a questo momento è costretta quasi ad avere con informazioni. Certo, c'è una gran cassa che sta cominciando a battere e c'è tutta una serie di situazioni in cui si capisce che verrà infilato in tutte le salse Dante possibili, immaginabili, anche negli elettrodomestici probabilmente, per pulire meglio qualcosa. Il fatto è che io credo che per dire Dante, io me lo sono permesso un po' tardi, ma non perché qualcuno me lo vietava, perché dovevano risolvere molti dubbi e il dubbio era, c'era la parola togata, il verso fatto sentire, tutto quello che in un'accademia praticamente da cui posso provenire, su cui si batteva, quindi il verso prima del contenuto. questo era, i Mediochi ovviamente non ce la facevano, arrivava un gas, Mari ce la faceva, ma fondamentalmente io ho sempre pensato che, da lì il titolo che tu hai visto, La paura di Dante, ho sempre pensato che bisognava praticamente vivere ciò che praticamente veniva detto, perché era detto da un uomo che in quel momento provava tutto, dal terrore alla gioia, la gamma dei sentimenti di fronte a ciò che vedeva, che attraversava e che descriveva. E allora ho fatto un'operazione che sicuramente mi ha tirato anche delle critiche dal punto di vista di chi appunto vuole soprattutto il verso. Io sono andato dentro, sono andato dentro, ho detto tutto questo con l'emotività, con l'emotività del vissuto e rispettando alcuni canoni che mai di mestiere sai fare, però fondamentalmente ho cercato di avvicinare la parola, il sentimento più che il verso a chi mi ascoltava. E pare che abbia funzionato, perché le reazioni che tu dicevi Francesco ne ho viste tante. Io stesso, la prima volta che ho fatto questo, ho fatto una fatica boia per non fare quell'errore terrificante che può accadere all'attore, praticamente, di essere talmente coinvolto di perdere il controllo di ciò che sta facendo, quindi arrivare a piangere. Io però quando lo provavo, insieme al maestro di musica con cui avevo chiesto di elaborare dei pezzi, delle introduzioni, Daniele Andriolla, lo voglio citare, carissimo, un amico da tempo che manca. Mentre provavamo, io ero pieno di lacrime e di emotività. Poi ovviamente me sono asciugate e sono andato in scena e le lacrime sono state degli altri, ma non credo perché io fossi... non piangevano per me o non ridevano per me, piangevano per se stessi e le devono per se stessi, perché le parole di Dante sono praticamente... nascono tutte dal dentro, nascono tutte dal dentro, anche se poi a volte, come da buon Fiorentino, le usa per bastionare gli altri, ma fondamentalmente sono tutte dal dentro, è vita vissuta. E inventare il vero, come diceva un altro famoso, Giuseppe Verdi. Il vero è una gran cosa, toccare il vero è bello, molto bello, ma inventare il vero è meglio, molto meglio. Ecco, questo è l'arte. L'arte di Dante, di chiunque di chiunque sia veramente un artista, anche di chi non è famoso e fa questo mestiere e fa questo mestiere praticamente alla stessa identica maniera di chi è famoso, vivendo e sbagliando e imparando come chi è famoso, soprattutto portando qualcosa agli altri. Quindi io, se dovesse capitarmi di rifare questo Dante, sarò felicissimo. Non credo che sarà fra le cose che verranno richieste per fare quest'anno, perché sono volutamente, diciamo, tra coloro che sono sospetti guardando giù, 80 o 84 anni. Sono felicissimo di quello che ho fatto. Vorrei che altri processi sono molto più di voi. Senti, Sergio, grazie e temo anch'io che non sarà la nostra iniziativa quella più gettonata, perché quando ci sono queste cose che diventano comunicazione, ma comunicazione diversa da quella che tu intendevi quando dici che un attore fa fondamentalmente comunicazione, perché io devo segnalare che questa mostra Dante 100% a cui ha partecipato Sergio, fra virgolette, lateralmente come attore, è una mostra importantissima, è probabilmente la mostra più importante realizzata negli ultimi 30 anni nei riguardi del poeta nato a Firenze e sepolto a Ravenna, perché è una mostra che raccoglie 100 artisti contemporanei di rilevanza spesso internazionale e tutti invitati da mio padre Daniele, salvo qualcuno da me, perché papà non c'era più, a interpretare i 100 canti della Divina Commedia. Ciascuno di loro ha lavorato singolarmente con un testo preparato appositamente da Daniele Oppi, da me, da Giorgio Seveso in qualche caso e da Rossana Bossaglia in qualche altro raro caso. Ricordo che la mostra è curata con me, mio padre, da Giorgio Seveso, Rossana Bossaglia e Andrea Del Guercio. È una mostra di un livello enorme, io naturalmente lo dico essendone curatore, ma vi assicuro facendo anche l'operatore e il curatore di mostre che è una mostra veramente rilevante. Perciò, proprio per questo, temo che non figurerà fra quelle più richieste e per il motivo che spiegavamo prima. Comunque, dopo questa piccola polemica… Posso dirti una cosa? Guarda, devo ringraziare ancora tuo padre, perché io dentro quella mostra ci sono. Perché fa i vari danni che io faccio, praticamente, un po' per Giorgio, un po' per Celia, un po' per non morire, come si diceva. Sei anche un artista visivo, è vero. Praticamente. Ho cominciato dalle cartoline, praticamente non c'è un mio amico che non diceva qualcosa da me, una lavorazione su se stesso. E tuo padre, Daniele, mi ha convolto in una cosa del purgatorio, una cosa del purgatorio, chiedendomi praticamente di lavorare qualcosa. E lo feci allora. E ancora ho il catalogo qua, praticamente, di cui ogni tanto mi capita di far vedere a qualcuno. E questa è la raffinatezza dei rapporti intellettuali fra artisti che sanno che creare la realtà è molto più divertente che riprodurla. E quindi fa parte del mondo dell'arte creare realtà e voi e noi cerchiamo di farlo sempre. Senti, io, Sergio, prima di tornare a Irina, a cui devo chiedere ancora un paio di cose, volevo fare brevemente una carellata di questo tipo. Qui ti vediamo dentro un autobus con Marcello Mastroianni e la Masina in una scena dove tu racconti delle cose a loro che rimangono un po' basiti, soprattutto Mastroianni. E qual è stata l'esperienza di lavoro con questi importanti attori? Al di là, abbiamo già raccontato di Fellini, insomma, Ginger e Fred, qual è il quale stato? Hai qualche ricordo particolare, una pillola? Perché poi devo passare a un'altra immagine che ti riguarda. Allora, io la pillola è molto semplice. Esiste in rete una fila che si chiama Diario dei Cine Club, che si può ricevere gratuitamente e che da anni, praticamente, grazie al suo direttore Angelo Tantaro, viene inviato a chiunque lo richieda, in cui proprio mi è stato chiesto un pezzo che ha pubblicato su questa esperienza, praticamente, con Mastroianni, soprattutto con Fellini. Quello è molto esoriente. In due parole posso dirti praticamente questo, che lavorare con gente come Mastroianni significa imparare molte cose semplicemente guardandolo, su come lui si rapportava con la professione, che non era praticamente, che era disponibile alla professione in qualsiasi situazione che si trovasse, e tra un set e l'altro, se ne restava in mezzo agli altri, possibilmente, divertendosi o commovendosi su quello che vedeva. Dopodiché veniva chiamato, e molto spesso era buona la prima, per semplice motivo, perché era aperto a tutto, a qualsiasi suggerimento che gli arrivasse. La Masina, la signora Masina, io la chiamo signora Masina, perché era così che veniva chiamata, perché era la Trude, e io ho avuto meno contatti di quanto ne ho avuti con Mastroianni, mi permetto di chiamarlo così, anzi Mastroianni ho avuto, per certo che ogni attore quando lavora con Fellini credo, per mia esperienza, che sia qualcosa che ha qualcosa di leggermente diverso di quando lavora con altri, perché la capacità di Fellini, di mettere a nudo praticamente ciò che hai, che ti porti, che con te come bagaglio naturale, è enorme. E a me è servito tantissimo, tant'è vero che poi dopo mi sono ritrovato quasi a pensare che ci vorrebbe sempre lui, ci vorrebbe sempre lui, per tirare fuori il meglio di me. Senti Sergio, invece qua, so che questo è un film che in parte ti perseguita, nel senso che è uno di quei film in cui vieni ricordato, o per cui vieni ricordato, però devo dire, a parte che è un film divertentissimo, ma giusto per capire da dentro, in diretta, questo pozzetto, com'è in scena? Renato Pozzetto, stiamo parlando della patata bollente, un film divertentissimo, giocato intorno ai temi della differenza di genere, e in tempi non sospetti, molto in là, direi ormai indietro, e con Renato Pozzetto, con te e con, aiutami, Massimo... E anche la Fene. E la Fene, che insomma, vabbè, come ti senti... Massimo Ragneri, ecco, non mi veniva il cognome. Allora, i protagonisti sono tre, Pozzetto, Ragneri e la Fene. Mi perseguita, mi perseguita felicemente, cioè è forse la cosa più ricordata di quelle che ho fatto io. Non è certo quella che io proporrei in primo, in primo, però è una cosa che ho fatto con molto piacere, diretto da quell'artigiano artista che era Steno, che è il padre dei Vanzini attuali, praticamente il quale era uno dei maestri a suo modo, praticamente, di fare cinema, e che anche lui era uno di quelli che sapeva praticamente tirar fuori dagli attori tutte le cose. Beh, l'esperienza con Pozzetto, simpaticissima, cioè, non... Ho avuto anche altri momenti con Pozzetto in altre situazioni, ma sinceramente io non ho mai avuto nessun problema nel rapportarmici e nel... Diciamo, consapevole che praticamente lui era Renato Pozzetto, io ero Sergio Giugli, cioè, nel titolo di testa è un'altra cosa, però è fondamentalmente due compagni e il di lavoro, il compagno di lavoro con cui mi sono trovato bellissimo. E anche la signora... Non avevo dubbio sul tuo aplomb in questa risposta, non avevo alcun dubbio. Senti, invece qua entriamo nel tuo lavoro più... Un altro lavoro che mi ha emozionato molto e che suggerisco a tutti di andare a cercare su YouTube. Credo che sia visibile. Si intitola Saturno, è un cortometraggio, credo che così si possa essere definito. Molto, molto bello, molto emozionante, molto ben fatto dal punto di vista delle scene, di tutto, della cura, del... insomma, è molto ben costruito come prodotto. Ed è una storia bellissima, dove tu reciti molto, 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 anche con la voce. Cosa ci dici di Saturno, Sergio? Allora, questo è un corto lungo, è un anomalo nel genere, praticamente. È un corto che riduce quasi 40 minuti. Prima cosa, anche questo fa parte dei regali della vita, perché se tu... Ci sono i regali della vita, inaspettati, che arrivano. Un giovanissimo regista, rispetto a me, mi contatta e mi dice, mi chiamo Così e Così. Io, tanto che faccio dei corti, comincio a fare dei corti, però ho un corto particolare, in cui ho sempre spiutato di imbattermi fisicamente in qualcuno che mi incarna il personaggio. L'ho visto, l'ho visto lei, in cinema. Sono arrivato a lei. Non ho budget, ne ho pochissimo, ne ho pochissimo budget. Non potrei permettermi, praticamente, di pagarla quanto dovrei pagare. Però, poi le leggi nel corto. Io ho portato il testo, lo legga, e poi mi dice. Nel frattempo, praticamente, mentre parlava questo, girava solo a me. Cioè, mi guardavo da tutti i lati. Cioè, non sapevi se ci facevano o se c'era sulla faccenda. Questo, a un certo punto, mi lascia la cosa. Già mi piacqua l'individuo, la personalità di questo, che sentivo davvero, anche nelle sue modalità strane. Lessi rimase impressionantissimo. Cioè, una storia che va letta, perché non si racconta... raccontate solo due parole. Che però, se l'avesse incontrata, uno dei registi più grossi, con più lavorato, ci si sarebbe buttato a pesce sopra. Perché era... Poi dopo... Perché leggo la faccenda e dico... Benny si chiamava Benny. Si chiama Benny. Dico... Usa il Benny per Benedetto. Sarebbe Benny. E leggo... Leggo... Il giorno dopo lui mi chiama e dico... Quando si comincia? E lui mi dice... Io... Ho... Per sei giorni... Il posto dove posso girare... Posso girare... Perché è quasi tutto l'interno, certo? Posso girare... E si comporta come si fa nel cinema. A che ora vengo... Al cinema, a che ora le mando la macchina a... No, a che ora vengo a prenderla... O le mando qualcuno con la macchina a prenderla... Il suo cachet che le posso offrire è questo... Praticamente... Mi racconta... Perfino mi dice praticamente... Mi sottopone l'elenco del cestino... Se lo voglio rosso o bianco... Cioè se il cibo è bianco... Cioè fa tutto quello che... Ho sempre praticamente trovato nel cinema. Praticamente... E... La Tù... È firmata... È elencata... Sono sette persone... In effetti... Molto spesso sono... Uno fa due cose... Lui stesso fa due cose... Però aveva necessità di mettere... Mette una serie di minuti... Bene... Ho lavorato... Sei giorni... Con lui... E sinceramente... Sto ancora facendo il tifo... Perché lui abbia... Il posto che dovrebbe avere... Non so cosa poi... Devo dire che... È un bellissimo... È davvero un bellissimo film... È davvero... Saturno... Andate a cercarlo... È... Bravo questo artista... Anche nella fotografia... Nelle riprese... Nella regia... È veramente... Un bravissimo artista... Sì... Sì... Ora si possa aggiungere... Fa dei corti... Lavora... Tecnicamente... Io l'ho sempre detto... Fin dall'inizio... Guarda... Che tu... Devi avere un attimo di grinta in più... Perché non puoi... Non sempre becchi praticamente... Quelli come me... Quasi sempre becchi quelli diversi... Quelli che si sentono... Che vogliono sentirsi importanti... E quindi... Sulla faccenda... E allora... Niente... Io dico a tutti anche... Questo stesso video... Io ho un sito... www.sergiociugli.com Lì... Trovate... Dal Dante... A questo di cui stiamo parlando... Diciamo... È l'album dei ricordi... È l'album dei ricordi... Quelli belli... Bene... Tutto ciò che c'è lì... L'ho fatto volentieri... Alte cose l'ho fatto... Perché mi pagavano bene... Allora... Io ho visto... Il... Bravo Sergio... Io ho visto... E ho esplorato a lungo... Il sito di Sergio Ciulli... È molto ricco... www.sergiociulli.it O .com... Trovate tutto quello che volete... Su Sergio Ciulli... Irina... A proposito di... Gente che si incontra... Tu... Ultimamente... Stai facendo tanta... Docenza... In ambito teatrale... E so che anche hai un po'... Diciamo così... Arricchito... La tua formazione... Stai arricchendo la tua formazione... Anche con un'altra disciplina... Che secondo me... È abbastanza complementare... Al tuo modo di... Di recitare... Ho visto un tuo spettacolo... Non ricordo se a Bologna... Forse a Bologna... Molto bello... Dedicato ai bambini piccoli... Dove tu hai anche una... Capacità fisica... Di... Muoverti molto particolare... Molto... Performativa... Sei veramente un'atleta... E... Mi ricollego al fatto che sei diventata... Un'esperta di yoga... E... Che valore ha questo... Percorso... Rispetto al tuo lavoro teatrale... Eh... Ma... Allora... In realtà... Io in accademia... Poi... Vabbè... La Paolo Grassi è sempre stata... Rinomata... Per il suo lavoro fisico... Che fa sull'attore... Eh... Quindi... L'attore che si riproma la Paolo Grassi... Ai tempi... Era sempre stato un po'... Visto come l'attore di... Che si esprime... Tra i vari strumenti... Che ha l'attore a disposizione... Molto anche con il corpo... Che coinvolge molto anche il corpo... Quindi... Io quando ho studiato lì... Ho avuto tanti insegnanti... Tanti maestri... Eh... Che ci sottoponevano... A differenti tipi di allenamento... Di training... Tra cui anche lo yoga... Quindi ho conosciuto lì... Per la prima volta... Eh... Questa disciplina orientale... E... Ero già rimasta affascinata al tempo... Poi... Con il tempo... Mi ci sono riavvicinata... E... Con molto... Con molto piacere... Molta passione... Per altri problemi... Problemi banalmente fisici... E... Eh... Approfondendo il... Lo studio... Attraverso un percorso per diventare insegnante... Che ho intrapreso da qualche anno... Eh... Ho trovato tanti... Punti in comune... Tra queste due discipline... E anche... L'idea che possa essere... Questa disciplina possa essere uno strumento molto utile per gli attori... Perché tanti aspetti allenano... Eh... A quello che poi può servire anche per il teatro... Banalmente... La consapevolezza del corpo... E quindi dello strumento del corpo... A cui allena il lavoro fisico attraverso lo yoga... Eh... È molto... Molto importante per l'attore... Ma non solo del corpo... Un'altra cosa importante... Anche la consapevolezza del respiro... Con tutti i pranayama... Gli esercizi di respirazione che ci sono... E quindi del respiro e della voce anche... Devo dire che... Eh... I miei tre anni in accademia... Non mi avevano mai insegnato così bene... Come funziona il diaframma... Come i miei due anni... Da insegnare nel corso... Nel corso di yoga... La mia generazione è stata massacrata dal diaframma perché dovevamo essere tutti impostati il più possibile parlare con un certo tipo di vocalità... Che sto tentando di fare in questo momento... Con gli armonici in abbondanza è il diaframma... Il diaframma... Mettiamoci un libro sullo stomaco... Respira... Si solleva il libro... Ah... Se non si solleva il diaframma non si muove... E avevamo praticamente alle prese una certa storia del genere... Devo dire però che tutto questo nel bene o male ci ha costretti praticamente a noi, in nostra iniziativa, a fare conti con questa storia... Finché abbiamo scoperto praticamente che è tutto strumento che avevamo e come lo si è usato attraverso letture e altre cose... Però io sottoscrivo quello che dico perché facendo questo lavoro e applicandoci altre cose scopri praticamente come si fa questo lavoro... Soprattutto cosa ti serve per fare questo lavoro... È bellissima la scuola... È stupenda... Ti dà tutte le cose che ti deve dare praticamente per l'informazione... Ma ti devi mettere in moto da solo dopo praticamente se vuoi praticamente trovare qualcosa... Quello che io dico a tutti gli allievi è cercate di non recitare come recito io... Ma cercate di pensare come penso io... Adesso vi dico come penso praticamente... Poi dopo parliamo delle recitazioni... E allora cerco praticamente di dire questo... Tu sei il primo maestro di te stesso... Tu sei il primo praticamente che puoi... Se devi allargare però nel tuo raggio d'azione... Non puoi fermarti a fare teatro, a fare cinema... Non puoi fermarti a dire io recito... Tutto quello che tu fai recitando fa parte del mondo... Di tutto ciò che c'è... Tu devi avere una conoscenza enorme... Per essere un buon attore... Non un grande attore... Un buon attore, una buona attrice... E avere una conoscenza enorme... E se mi permette per ringraziare i primi registi con cui praticamente... I fratelli Frazzi... Andrea e Antonio Frazzi... Che è di una grande carriera televisiva in Sceneggiati... Ma che è... Con cui praticamente... Diciamo... Mi sono trovato anche a fare teatro all'inizio della loro storia... Noi ricordiamo i fratelli italiani... Quando siamo i fratelli Frazzi bisogna essere un po' più abiti ai lavori... Ma sicuramente hanno un posto ben importante... Andrea non c'è più da un pezzo... Antonio c'è ancora... Io ho lavorato con loro in teatro... E mi sono accorto che potevano essere gente di cinema... Perché... Erano due... Uno stava praticamente in platea... E uno stava in palcoscenica... Uno faceva i primi piani... E uno faceva praticamente il campo totale... E di tanto si alternavano... Tu praticamente... Ti arrivava una indicazione di platea... E qua si arrivava praticamente il dettaglio dalle spalle... Era lui l'altro in guinta... Perché ti stava guardando... Bene... Mi ricordo con tanto affetto... Perché sono state gente degli amici... E hanno un posto molto più grande di quello che occupano praticamente... In questo mestiere... Ancora oggi... Andrea e Antonio Frazzi praticamente... Sono praticamente due registi... Con cui era bellissimo lavorare... E ricordo anche l'ultima cosa... Il sindacato... Io... Nelle mie attività... Non ho mai dimenticato... Che diritti e doveri... Fanno parte della conoscenza... E di questo mestiere... Esiste... Esiste un contratto dei lavoratori dello spettacolo... Esiste una regolamentazione sindacale dello spettacolo... Esiste una serie di passaggi... Con cui fondamentalmente... Si fortifica... La propria professione... Nello svolgerlo... E si evitano praticamente... Una serie di... Brutte cose che possono capitare... Per cui... Sindacato attori... Sai... Sindacato attori italiani... Che fa parte del sindacato della comunicazione... Dei lavoratori della comunicazione... Non vedo? Non è solo una tessera... È uno strumento... Che si tiene insieme al copione... E che si tiene insieme... Praticamente... Le le mie che si leggono... Per poter... Conoscere i propri doveri... E i propri diritti... Fondamentalmente... Di diritto... Grazie Sergio... Senti... Tu hai tra l'altro avuto anche un ruolo... All'interno di questo sindacato... Anche importante... Volevo... Prima di concludere... Salutandovi... Chiederti se... Mi fai la cortesia... Volevo lasciarvi soli un secondo... E farvi fare due domande... Reciprocamente... Vorrei che cominciasse Sergio... A chiedere qualcosa a Dirina... E poi per far chiedere... A Dirina qualcosa a Sergio... Voglio che si incontrino... Queste due generazioni di artisti... Anche se il momento è difficile... Incontratevi... Beh... Irina... Io... Cosa devo dirti... Avrei tante cose da chiederti... Perché tu sei quella che in questo momento... È quella... E sì che esiste... Questo mestiere... E mi penserebbe... Però per fortuna... L'insegnamento... Mi ha dato la possibilità... Di avvicinarsi molto... A chi oggi ha la tua età... A chi oggi... Cosa vorrei chiederti... Vorrei chiederti... Come cavolo fai a campare... Non è... Non è semplice... Non è semplice... Perché quello che tu dicevi prima... Del sindacato attori... Sono delle parole sacrosante... Però purtroppo io credo che... Nel teatro contemporaneo... Nel mondo dello spettacolo italiano... Al momento contemporaneo... Purtroppo... È difficile molto spesso... Per un giovane attore... Riuscire a farsi rispettare... Nel modo in cui... Dovrebbe essere rispettato... Perché ci sono poche risorse... E perché spesso... Poi dopo... Ovviamente i giovani attori... Sono quelli che... Vengono più penalizzati... Perché sono giovani... Devono farsi conoscere... Quindi viene tutto un po'... Sacrificato all'altare della visibilità... E però poi... Bisogna uscirne anche un po' da questa situazione... E non è... Sempre facile... E non c'è sempre la possibilità di farlo... Quindi io come campo... Io faccio tante cose... Tante cose diverse... Principalmente... Sono molto contenta come te... Di avere conosciuto... Faccio l'attrice... Faccio parte di una compagnia di teatro ragazzi... Che ha fatto quello spettacolo che citava prima... Francesco... Una compagnia che si dedica proprio al teatro per le nuove generazioni... Nello specifico anche qui... Noi abbiamo una grande tradizione in Italia di teatro ragazzi... Però di compagnie giovani che si dedicano solo a questo... Ce ne sono poche... Noi cerchiamo di farlo... La compagnia si chiama Schedia Teatro... E quindi con loro portiamo avanti un lavoro di ricerca in questo senso... Anche adesso che non stiamo facendo nulla... Però noi stiamo cercando di rieditare un nostro spettacolo... Quindi siamo in moto artisticamente in questa cosa... Però ovviamente questa compagnia ha bisogno di sostegno... Quindi stiamo sempre a fare bandi, bandi, bandi... Per cercare di sostegno economico... E contemporaneamente oltre al lavoro da attrice... Io lavoro anche come insegnante... Che è un lavoro che mi soddisfa tanto... Mi piace tanto e sono contenta di averlo scoperto come è successo a te... Anche per me è stato casuale... E questo lavoro mi permette anche di avere una certezza economica... Che altrimenti solo attraverso il lavoro attoriale non potrei avere insomma... Purtroppo però anche questo lavoro a causa del Covid... Negli ultimi mesi è molto molto difficile... Perché tutto il nostro mestiere, il teatro richiede presenza... E' fatto di presenza... E' fatto di... E' un'arte presente... E' un'arte interattiva... Non è registrata... E quindi è difficile da fare in questa situazione... Però... Insomma io spero che presto... Allora in alcuni casi sono riuscita a riprendere in presenza... Perché io lavoro tanto anche con le scuole... E di questo sono contenta perché porto ai ragazzi la possibilità di conoscere il teatro esattamente come è successo a me... E alcune scuole coraggiose hanno deciso di ricominciare pure in queste condizioni a fare teatro... E... Però non è ancora come prima insomma... Anzi ci vorrà ancora tanto tempo perché... Perché si torni... Si torni a... A collaborare come si faceva prima... Quindi come campo in questo modo sostanzialmente... Attraverso l'insegnamento... E anche attraverso la recitazione... Ebbene anche lì sia sempre una ricerca di... Di un sostegno quello che noi cerchiamo di portare avanti... Non semplice... Posso aggiungere una piccola cosa... Una piccola cosa... Tra le tue insegnanti per caso... Non so se per generazione sia stato possibile... Hai incrociato Mara Molteni? No... No... Purtroppo no... No... Era una cara amica... Con cui ho condiviso certe cose... Che ha insegnato... Ha insegnato la Paolo Grassi? Sì... A Molteni ha insegnato... Paolo Grassi... E ha avuto anche dei ruoli... Nella situazione... E quindi... Siamo anche orientati in pochi tempo... Questo è effettivamente... Così... Mi è rimasto... Mi è rimasto sempre una curiosità... Non l'ho più sentita... Semplicemente... Basta... Ok... Irina... Ti auguriamo tutti che la scuola riprenda... E che gli spettacoli di schedia teatro... Ad esempio... Rosa nell'insalata... O l'altro... Molto simpatico... Di quell'orsetto... Ora non ricordo... Piccoli sogni... Piccoli sogni... Dove tu appunto... Hai questa performance fisica... Notevole... Possano venire... Girare per il mondo... Perché sono veramente... Interessanti e divertenti entrambi... E non solo per... Beh in realtà... Se posso dire solo una cosa... In realtà l'attore poi in scena... Non è mai comodo... Perché questa cosa... È una cosa che dico sempre ai miei allievi... Perché loro quando rieccitano... Vogliono sempre stare comodi... E non fare fatica... Invece in teatro... Ma non solo in teatro... Ma in teatro particolarmente... L'attore in scena è sempre scomodo... E quindi... Particolare in quel caso... In quel caso lì... Devo dire che io... Ho quasi sofferto per te... Perché a un certo punto... Passavano i minuti... E passavano le ore... E dicevo... Ma come fa a stare in quel modo? Eppure... Forse lo yoga aiuta... Ecco... Sì... Quello sicuramente... Invece a questo punto... Irina... Approfittiamo di questo grande maestro... Che abbiamo... Davvero grande maestro... Sergio Ciulli... Del mestiere... Del teatro... Approfittiamo... E approfitta anche tu... Se vuoi chiedere qualcosa... Farti svelare... Il trucco definitivo... Da Sergio Ciulli... Fai una domanda... In realtà io sarei interessata a sapere da te Sergio... Se tu vedi una differenza nelle caratteristiche degli attori che hai... Degli attori giovani che hai formato negli ultimi anni rispetto agli attori della tua generazione... Nel senso se hai visto un'evoluzione dell'arte teatrale, della recitazione in una direzione... E se è diversa da com'era quando hai iniziato tu... Direi che ho visto delle applicazioni diverse, non la diversità... Cioè ho un uso della voce più o meno... Una fisicità maggiore o minore... Ma i fondamentali sono sempre quelli... Cioè ho visto fondamentalmente questo... E questo è confortante... Perché fondamentalmente tu continui negli altri... Sempre... Chi ha fatto questo mestiere... Confina negli altri... Sempre... Io... I miei allievi... Quello che ho ottenuto... Certamente quando raccontavo di 120 giorni di tournée... Mi prendevano per matto... Quando parlavo anche di 80 giorni di tournée... Di 300 repliche... Cioè mi guardavano come se raccontassi... Questa è la diversità fondamentale... Il sistema... Questa è la verità fondamentalmente... Io dopo anni di alberghi e pensioncini sono in pensione... Ho raggiunto una pensione... C'è qualcosa che praticamente... Oggi... È difficile di raggiungere praticamente... Da parte di che fa questo mestiere... Con le giornate lavorative che si ritrova da fare... E altre situazioni... Cioè è terribile questo... Perché io dal mio mestiere ho avuto... Ho dato... Ma anche ricevuto... Qualcosa per dopo... Qualcosa per dopo... E tutt'oggi praticamente posso... Posso... Guardare con affetto... A quello che ho fatto... Non posso avere dispianti... Perché anche dal punto di vista... Dal punto di vista pratico... Questo mestiere mi ha dato prima... E mi sta dando ancora... Ho costruito insieme a questo mestiere... Ecco quello che io dico... Parlavo di futuri disoccupati... Prima scherzosamente... E lievi... Perché... In questo senso... In questo senso... Dove... Perciò perdere il periodo del Covid... Ma se vogliamo... Pensare... Fino a due anni fa... La situazione... La media lavorativa... La media lavorativa... Di un attore... Professionista... Ma non di chiamata... Non di nome... C'è conosciuto nel suo ambiente... Di nome dell'ambiente... Nei fortunati... Nei fortunati... Passava... Toccava i 120 giorni l'anno... Su 365... Nei fortunati... E che stava... Perchè avete detto... Una ditta... Una cooperativa... Cioè che stava... Insieme da tempo... Cioè io come sindacalista... In senso... Per virgolette... L'ho vissuta questa faccenda... L'ho viste... Ho visto quante... Quante anche... Talenti sono stati... Praticamente costretti... A smettere... Sulla pagina... Ma anche... No... Prima del Covid... No? Adesso... Sulla pagina... Una storia... Questa è una storia... Ci avviamo adesso... La conclusione... Ed è una storia... Questa che mi dà modo di dire... Che... Tornare sul tema... Che noi da tanti anni... Da ormai 50 anni... Cerchiamo di portare avanti... Dal guado... Che è il tema del valore degli artisti... E del ruolo... Che gli artisti hanno nella società... Un ruolo importante... Che merita rispetto... Non tanto e non solo... Dagli organismi privati... Che in parte già lo fanno... Ma hanno il diritto di farlo o meno... Ma dagli organismi pubblici... Che invece hanno il dovere di farlo... Perché se vogliono fare in modo che questa società progredisca... Almeno con lo stesso ritmo del tempo... Devono considerare il fatto che gli artisti sono un enzima fondamentale... Della crescita culturale... E quindi economica e sociale... Di una comunità... Per cui una comunità... Che trascura in questo modo... Violento... E deprecabile... Gli artisti... E' una società fallimentare... Altro che problemi politici... Altro che destra-sinistra... Altro che... Governo sì... Governo no... Qui c'è un problema di fondo... Che è la scuola... Che è la cultura... Che è... Dove vanno le risorse di questo paese... Per fare in modo che questo paese migliori... Gli artisti fanno soltanto migliorare le situazioni e le comunità... E meritano rispetto... E il rispetto significa economia... Meritano sostegno economico... Noi siamo a Guado da 50 anni... In questo momento... A una temperatura interna di gradi 12... Perché facciamo cultura... E non facciamo il ristorante... O la gelateria... O il... Con tutto rispetto per questi esercizi pubblici... Che in questo momento sono in grave difficoltà anch'essi... Però... La cultura è un luogo di perdizione economica... In questo paese... Questa è una vergogna... Per cui mi associo all'appello... Mi fermo qui perché se vado avanti le dico grosse... Comunque... È gravissima questa situazione che stiamo vivendo... Ma salutiamoci dicendo che a me piange il cuore salutarvi... Perché vi voglio bene entrambi... Mi avete emozionato entrambi... Irina la vedo spesso... Sergio è tanto tempo che non lo vedo e non lo vedevo... E quindi sono felicissimo di averti rivisto Sergio... Spero presto di rivederti o a Firenze o qua al Guado... O magari perché no... In un'altra diretta parlando d'altro... Vediamo... Vediamo... Io sarei felicissimo... E dico Irina... Se il mio email... Ragazzociulli... Ragazzociulli... Chioccio... Gmail.com Se mi mandi qualcosa... Praticamente... Risseveremo le mie cartoline... Ok... Ok... Va bene... Grazie Sergio... Grazie mille... Soprattutto grazie di essere stata qui con me... Grazie a te... È stato veramente un piacere... Grazie Irina... Grazie a tutti... Ci vediamo lunedì... Io vi dico a voi due di rimanere un attimo in linea... Che così vi avvio verso l'aperitivo... E intanto salutiamo tutti... Ciao e grazie... Ciao... Ciao... Ciao...